Ehi, Milare, Ais! La posizione simmetrica, cambierò la mia posizione così veloce possibile, ok? Non è troppo facile. Ah, no problemi. C'è il corrento, il potere, il potere, il potere, il potere, il gioco, il gioco, il gioco, il gioco. C'è il corrent molto, ma è piaciuto. Si, la… Ma colpi, il gioco, il gioco, il gioco, il gioco. Io ho ma. Gio, questa è piaciuta. Si, la ho ma. Si, la palla. Si, la palla, la palla. C'è la palla. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! 25 minuti. 25 minuti. E dopo, andiamo all'inizio al porto. Ok, e ora quando sono pronti, posso iniziare. Prendete la posizione. Non come questo. Perfetto. Perfetto. Iniziamo. Ok. 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 Grazie a tutti